Allora, quest'anno abbiamo cambiato un po' la formula, quindi rispetto agli anni passati in cui organizzavamo i grandi concerti estivi in piazza, quest'anno l'evento si chiama Parole e Musica, quindi organizziamo un incontro con due grandi artisti, due grandi protagonisti della musica italiana in cui verranno fatte delle interviste, verranno messi un po' a nudo, diciamo così, rispetto al loro passato, alla loro storia, alla loro discografia e però ci saranno anche dei momenti musicali di intrattenimento e quindi è una nuova formula, un nuovo modo di intraprendere l'intrattenimento all'interno della nostra struttura. Sono due gli artisti che avete deciso di ospitare, J-AX e RAF, perché questa scelta? Una scelta che è determinata dal fatto di avere un pubblico il più eterogenerico possibile, abbiamo la volontà appunto di soddisfare le esigenze dei più giovani fino ad arrivare ad un pubblico più maturo. Ecco, il modo con cui questi artisti si racconteranno è un po' differente rispetto al passato? Ed è questa la grande novità, Parole Musica è un format nuovo, un format che abbiamo sposato dove sostanzialmente andiamo a conoscere l'artista, l'uomo, ci racconterà la sua storia nel corso degli anni che verrà intervallata da alcune canzoni che appunto ovviamente faranno parte del nostro spettacolo. Un modo appunto che va al di là di quello che conosciamo canonicamente come un classico concerto, ma ci permette realmente di avere un'affinità che difficilmente troveremo con un artista di questo calibro. Fra l'altro sappiamo che sia J-AX sia RAF sono due grandissimi, non sono io qui a dirlo, ma tutti gli anni abbiamo sempre ascoltato la classica hit estiva di J-AX. E RAF è un po' diciamo la corona sonora di penso decenni tra gli anni 90 e i primi del 2000. Chi sarà ad intervistare questi grandi artisti? Partner d'eccezione Radio Subasio con la speaker Katia Giuliani. La modalità con cui il pubblico potrà partecipare? Allora noi abbiamo dato ovviamente un ingresso libero come nella tradizione di tutti i festival del Val di Chiana, ci sono 400 posti a sedere, apriremo i cancelli per così dire alle 8 e 30 della sera e lo spettacolo inizia alle 21 e 30. Dopo cena sicuramente meno caldo e ci saranno anche delle promozioni particolari? Beh sì, sicuramente sono due serate di grandi eventi, i negozi rimarranno aperti fino alle 23, quindi con temperature sicuramente più consone visto il periodo e soprattutto abbiamo abbinato una promozione con uno sconto del 20% che si aggiungerà ai saldi, quindi già un momento promozionale molto importante in questo periodo con oltre 50 negozi aderenti a questa iniziativa su una selezione di articoli e quindi chiaramente sarà un'occasione ancora in più per avere un'opportunità di shopping all'interno della nostra struttura commerciale, quindi un momento promozionale abbinato a un momento di intrattenimento. Diciamo che è soprattutto un'occasione per ritornare a fare eventi all'interno del nostro village dopo un anno di stop e quindi è sicuramente un'occasione di festa, un'occasione di intrattenimento e anche di cultura per ritornare a vivere nuovamente questo posto in maniera serena, in maniera spensierata in questa estate molto calda.